Hola a todos, io sono Davide, detto anche il king di ebay e non solo. Se vuoi seguire le mie avventure sul guadagno online, metti subito un bel mi piace sulla fiducia e segui il canale attivando la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornato sui miei nuovi video che tratteranno sempre di guadagno online, di ebay, amazon. Purtroppo l'ebay journey, qui potrete trovare molti video sul mio canale, si è bruscamente interrotto all'incirca verso metà luglio quando io e mia moglie abbiamo preso la decisione di trasferirci, era arrivato il momento di andare via da Malta. Cosa poi realmente avvenuta verso la fine dell'anno? Ho ancora lavorato in questo periodo mentre ci stavamo organizzando, sempre da Malta, poi abbiamo preso la decisione definitiva di andare. Però di queste cose ne parleremo più con calma prossimamente. Dico subito che in futuro non credo che riproverò più un ebay journey o qualcosa di simile. Mi richiedeva davvero tantissimo tempo e per me aveva pochissimi benefici partire da zero. Chi ha dei soldi da investire è davvero a pochissimo senso partire completamente da zero. Era anche stressante perché mi sentivo in dovere praticamente verso di voi di portarvi il video per farvi vedere sempre i guadagni, tenere la contabilità separata apposta per fare questo video. Potete capire che chi si intende un pochino di contabilità era davvero un bordello. Ovviamente lavoravo con la stessa partita IVA però mi dividevo in un mio file Excel tutti i guadagni, li dividevo dagli altri store. Quindi potete capire che è un casino. Mi richiedeva il doppio del tempo. E mi richiedeva anche tantissimo tempo per fare le inserzioni. Molte, tutte no, ma la maggior parte le facevo o in live o facendo dei video qua su YouTube. Quindi potete ben capire che se, ad esempio, fare un'inserzione a me da solo senza videocamera ci impiego 5 minuti facendola in una live dove magari spiegavo qualcosa mi richiedeva 20-25 minuti per fare un'inserzione. Quelle live non sono morte, magari qualcuna la farò ancora, però magari trattando altri argomenti. Comunque per questo account di Bay dedicato a questo canale ci dedicavo pochissimo sui 20-30 minuti al giorno facendo conto che facevo le inserzioni poche volte, le mettevo nelle bozze, magari mi richiedeva 2-3 giorni quella volta in live, però poi magari per 1-2 giorni non facevo praticamente niente, solo spedire i pacchi. Nel conto che avevo fatto con Stripe, siete vecchi del canale, magari l'avrete già visto, quando aprivo il canale di Bay, quando aprivo il canale del account Stripe, quando facevo i primi ordini, sapete tutto. Ero partito con 1000€ mi pare, e comunque nel conto di Stripe me ne sono ritrovati, mi pare, 4000. Sì, non è tantissimo perché sono passati tipo 7 mesi, in 7 mesi guadagnare 3000€ non è, cos'è, 400€ al mese più o meno di media, non è tantissimo, però ci ho dedicato 20-30 minuti al giorno, ci ho dedicato praticamente pochissimo tempo. Non so se con qualche altro business online se dedico 30-40 minuti, anche lo stesso YouTube, facciamo finta, anche YouTube, se dedichi 30-40 minuti, di certo non farei 400€ al mese, ne farei 0, perché io infatti ne sto facendo 0. Altri business online dove dedichi pochissimo tempo, anche per avviarli e tutto, non me ne vengono in mente, sinceramente. Negli ultimi mesi lo stavo raggiungendo l'obiettivo prefissato, che era ad arrivare entro fine dell'anno a 1000€ al mese. Ero arrivato mi pare a 500€ a giugno e poi ero sui 400-500€ a luglio, però mancava ancora metà mese. Poi ho fatto un altro mese a 300€, poi ho fatto un mese a 900€, forse a settembre, ottobre, non mi ricordo più. Comunque è fattibilissimo, davvero fattibilissimo, arrivare a fare 1000€ al mese partendo da 0 e avviando una nuova attività. Non so quante attività offline o anche online ci siano che nel primo anno di attività riesci ad andare in profitto, di solito si è quasi sempre in perdita. Soprattutto offline, offline quasi tutte le attività ai primi due anni mi pare sono tutte in perdita o vivacchiano. Ovvio, con 1000€ al mese non puoi pensare di aprire un SRL, perché se no solo di contabilità e di tutte le spese ci perdi. Però magari un forfettario con 1000€ ci stai già dentro, comunque se hai 18-19 anni va già bene, perché l'alternativa penso che sia andare a girare patatine al McDonald's o qualcosa del genere. Con la differenza che se giri le patatine al McDonald's magari fai anche 1000€ al mese, però fra 10 anni guadagni ancora 1000€ al mese o poco di più. Che invece se apri un'attività da 1000€, l'anno dopo se non fai cavolate ne farei 2000€ al mese, 3000€. Per cui dedicandoci il giusto tempo, che ci avrei dedicato se non avessi avuto i miei store, gli altri miei store, avevo Amazon, avevo Ebay, avevo Shopify, avevo... Non mi ricordo più, no, basta, forse basta, non avevo più perché gli altri poi li avevo abbandonati perché erano neanche secondari, diciamo che erano terziari, quartari, quintari, perché facevo una decina di vendite al mese sugli altri. Però servivano per vendere la merce che magari non mandava su Ebay, non mandava su Amazon, non mandava su Shopify, negli altri siti come di annunci. Non subito .it perché io non posto essendo residente estero, però siti simili, avete capito di che siti parlo, siti di annuncio online o anche Facebook Marketplace, riuscivo a vendere qualcosa che non riuscivo a vendere su Ebay e Amazon. Quindi senza dilungarmi troppo, se avessi iniziato da zero e avessi avuto solo questo store, ci avrei dedicato minimo 7-8 ore al giorno e con 7-8 ore al giorno penso che qualcosa di più di 1000€ al mese si poteva già fare, già dal primo anno d'attività. Ve lo dirò a fine di questo anno, a fine del 2023, perché adesso praticamente sto riniziando da zero. I miei account Ebay non posso più riutilizzarli con la società che ho aperto qua perché ho cambiato nazione e Ebay non permette di cambiare la nazione di account. Quindi devo iniziare da zero, ho aperto un account, mi hanno dato 3 inserzioni, ho chiesto l'aumento subito, me ne ha dati al massimo 50€, quindi sto iniziando praticamente da zero. Con le conoscenze che non ha uno che inizia effettivamente da zero, però come armi praticamente sto iniziando da zero, sì con qualche soldino in più in banca che posso investire qualcosa di più, però comunque sarà bello vedere quanto si riuscirà a guadagnare iniziando effettivamente da zero, però non dedicandoci 20-30 minuti al giorno perché sennò fallisco. Ci dedicherò minimo 6 ore al giorno, per 6 giorni a settimana, da lunedì a sabato. Quindi se iniziate da zero, mettete conto che all'inizio dovete farvi davvero il mazzo, lavorando minimo 7-8 ore al giorno, minimo, minimo. Poi ovvio, quando l'avrete avviato potete anche permettervi di dedicarci meno tempo perché poi guadagnate più soldi, potete assumere qualcuno, potete dedicarvi ad altri progetti o aprire altri negozi ebay. Perché se avete la partita io non ne potete, anzi non ne potete, non dovete aprirne solo uno, dovete aprirne almeno due o tre. Eh ragazzi, state attenti allora a chi vi dice che già dal primo mese con un'attività online potete guadagnare migliaia e migliaia di euro perché non è così. Quindi, o perlomeno, il 99% delle volte non è realmente così. Anzi, quasi il 100% delle volte sarà una crescita piano in pianotto, però costante. Ma piano, tra virgolette, perché comunque i primi mesi, effettivamente, guadagnando magari il primo mese 10 euro, poi farete un boom, magari che guadagnerete 1000 per, guadagnerete 100 euro. Toglietevi dalla testa che appena hai iniziato un lavoro guadagnate subito 1000, 2000, 3000 euro perché è quasi impossibile. Ci si arriva con un pochino di tempo. Prima di tutto vi ho voluto dire questo per onestà, perché ovvio non voglio tirare acqua al mio mulino e dirvi Ah sì, con ebay o con amazon appena metti, apri lo store, guadagni subito il primo mese 10.000 euro, 20.000 euro. Scordatevelo, scordatevelo. Nel 99,99% dei casi non è così. Questa è una cosa che nessuno si vuole sentir dire. Di farsi il mazzo per iniziare. Perché i soldi, come ben sapete, non piovono dal cielo. Questo lo so, ti porterà a disiscriverti dal canale, ma non mi interessa, perché questa è la verità. Se invece state cercando di iniziare un lavoro online, perché magari non vi piace lavorare offline, non so, andare a fare il cameriere, andare a fare questo, a parte che all'inizio potete fare entrambi. Comunque fidatevi al 100% che è fattibilissimo iniziare un'attività online. Magari non un'attività da un milione di euro al mese, ma un'attività comunque che vi farà guadagnare bene. Sì, secondo me sì. Poi ovvio, tra questa gente ci sarà chi farà dei guadagni altissimi. Davvero ci sarà anche della gente che farà dei guadagni miliardari. Magari non miliardari, però milionari. Poi ci saranno quelli che riusciranno a tirarsi su un bello stipendio, magari 5.000, 10.000 euro al mese. Questo è già un bello stipendio per l'Italia o anche per quasi tutto il mondo. Poi ci sarà quelli magari che si accontentano di farlo 4-5 ore senza studiare, senza niente. Magari arriveranno a farsi 1.000, 1.500 euro al mese. Comunque è come andare in fabbrica, praticamente, penso, non lo so. Con la differenza che lavori da casa c'è più libertà. Ovvio, non hai ferie pagate, non hai malattie, non hai molte di altre cose, però più o meno. Che si può fare anche così. Però 1.000, 1.500 euro li guadagnano, secondo me, chi proprio non si applica molto. Chi non studia, chi rimane sempre al solito livello e si accontenta. Ovvio, ci saranno anche quelli che falliranno. Quelli senza la giusta mentalità, quelli che magari non sono anche portati per questo lavoro. Magari non tutti siamo portati a fare una cosa. Perché comunque richiede affrontare tanti problemi che altri lavori non sono così stressanti. Altri lavori, ti svegli, vai a lavorare, a fine mese c'è lo stipendio. Qua magari fai la stessa roba, ti svegli, lavori, vai a dormire, ti svegli, lavori, vai a dormire. Poi a fine mese magari non hai niente, magari hai perso dei soldi. Però fidatevi del da. Se vi impegnate al 100%, ci riuscirete. Sicuro, questo è sicuro. E se qualcuno, un vostro amico, un vostro conoscente, qualcuno online, vi dice che è impossibile ed è un po' come quando, la sapete la storia della volpe, con l'uva, che quando non riesci a ottenere una cosa vai a dire, ah no, quello lì è impossibile da fare. No ragazzi, perché ci sono davvero moltissima gente che ci guadagna. Come vi ho detto prima, c'è chi guadagna miliardi, c'è chi guadagna bene e c'è chi guadagna chi fa una vita decente e chi... c'è anche chi è fallito e tutto. Però sicuramente chi ha fallito non aveva la giusta mentalità, perché con la giusta mentalità non fallirete sicuro. Va bene, basta, questo monologo è finito. Se vi interessano gli argomenti che tratto, vi ripeto, mettete un bel mi piace, lasciate un commento qua sotto, dove magari chiedete qualcosa e vi rispondo, e poi soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, e a cliccare sulla campanellina delle notifiche. Così ci vedremo nel prossimo video. Ciao ragazzi!